That's left is a window to my soul Come and get it Orci con la punta A fil di palo Carolina Orci con il numero 3 Riapre la partita Check-on Check-on Palla per Velázquez Velázquez salta l'avversario Velázquez col destro 3-4 Gran gol di Oscar Velázquez Il lancio lungo del portiere della Sporting A cercare di Pascasio Che con l'esterno destro Supera Vailati Un gol bellissimo Una giocata pazzesca del numero 14 Biancorosso Ha superato Sean Vailati Con un pallonetto di pregevolissima fattura Margaglio Margaglio c'è forse un fallo Si continua a giocare Allora Federico Armellini Col mancino Trova l'angolo giusto È quello che vale Il 2-0 Casal Torraccia In avanti il Palombara Lancio per Albano Albano controlla di destro Super goal di Andrea Albano 2-1 Passa in vantaggio il Palombara Magia di Andrea Albano Réal